Mimmo Talarico ha avviato da tempo il suo cammino verso il voto amministrativo di primavera, correrà sotto le insegne di Attiva Rende, l'associazione di cui è promotore, presieduta da Marina Simonetti. La novità è che potrebbe anche non essere lui il candidato sindaco. Nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede del Sodalizio, Talarico ha annunciato di voler aprire il proprio contenitore alle altre forze civiche e politiche della città del Campagnano, invitandole a costituire insieme una coalizione sulla base di principi e programmi comuni, lanciando l'idea di scegliere il leader del cartello così costituito attraverso le primarie. Attiviamole, se lo facciamo con consapevolezza, con serietà, con umiltà, può essere ancora oggi, anche oggi, un ottimo strumento per selezionare la guida della coalizione. Nessuna remora ad avviare un dialogo anche con i gentiliani del gruppo consigliare Rende Centrodestra e con Insieme per Rende il movimento civico di Sandro Principe. Mettiamo a disposizione dei materiali prodotti in questi mesi con il questionario a cui hanno risposto 3.000 cittadini rendesi. Abbiamo prodotto una serie di incontri nei quartieri con associazioni di categorie, con vari interessi diffusi che ci sono nella città di Rende. Adesso tutto questo lavoro vogliamo ovviamente confrontarlo con coloro i quali ritengono l'esperienza manna un'esperienza fallimentare dal punto di vista politico e amministrativo e al tempo stesso che siano disponibili a rilanciare la città.